È stata predisposta la Cassa Integrazione Inderoga per i 28 lavoratori della Lencioni Costruzioni in ferie obbligate dal 1 di aprile. L'azienda infatti presenterà entro la fine del mese istanza di fallimento presso il Tribunale di Lucca. La notizia della chiusura è calata sulla testa dei dipendenti come una nube improvvisa. Fino all'ultima settimana di marzo infatti la vita lavorativa non aveva registrato cambiamenti, anzi continuavano ad essere effettuati straordinari. Poi all'improvviso è stata comunicata la chiusura dell'azienda che di fatto ha sbarrato i cancelli. La trattativa tra proprietà e sindacati è giunta questa mattina in provincia di Lucca sotto la supervisione dell'assessore alle politiche del lavoro Gabriella Pedreschi. La provincia grazie ad un apposito strumento sarà in grado di anticipare la Cassa Integrazione fino a 6 mensilità di 700 euro ciascuna. La Lencioni Costruzioni è l'ennesima vittima del settore legato alle costruzioni. Debiti contratti sia con privati del settore, anche loro in sofferenza, che con enti pubblici bloccati dal patto di stabilità hanno portato al crack. L'azienda Lencioni avrebbe ancora un grosso carico di lavoro. Il problema è la liquidità, non riesce più a far fronte ai pagamenti, agli stipendi e quindi di conseguenza si è bloccata l'attività. Noi avevamo l'esigenza di dare garanzia ai lavoratori perché hanno già una condizione di non pagamento dello stipendio di marzo, quindi abbiamo fatto un accordo con la Cassa Integrazione in deroga, cercando di farci dare un anticipo dalla banca. C'è la provincia che garantisce la condizione per cui questi lavoratori possono avere uno stipendio in anticipo dalla Cassa Integrazione. Grazie. Grazie.